Siamo al mercato di Battipaglia che ogni giovedì si svolge qui davanti allo stadio Luigi Pastana. Quest'oggi vogliamo soffermarci su questo mercato che avrebbe bisogno di una sistemata, servizi igienici inesistenti, pulizia a dir poco contestabile e allora sarebbe l'ora di proporre un mercato al coperto perché la città di Battipaglia ha una grossa utenza, i gispuntisti arrivano da tutte le zone e quindi avrebbero bisogno di un'accoglienza e di un mercato decente. Voi da quanti anni venite qua? Da 40 anni. Ditemi avete qualche lamentela da fare? No ci sta da sistemarlo un pochettino perché l'economia non funziona tanta. Ma noi stiamo lanciando la proposta di un mercato coperto con i servizi perché pensi che qua ci sia una carenza? Come città di Battipaglia che è così grande c'è bisogno di un mercatino fatto in modo sistemato, soprattutto se viene coperto, è una buona soluzione.